Si è acceso il caos a Uomini e Donne con Ida Platano e Diego Tavani al centro dello studio. Non è arrivato il lieto fine per i due, che danno vita a uno show senza fine. La scorsa settimana, la dama aveva annunciato la sua decisione di lasciare il programma di Maria De Filippi con il Cavaliere Romano, che qualche giorno prima le aveva rivelato il suo amore. Una scelta da record la loro, visto che non hanno avuto neppure il tempo di lasciare lo studio per viversi lontani dalle telecamere. Quanto accaduto oggi ha lasciato il pubblico perplesso. Dopo lo scontro della scorsa settimana, ecco che Ida e Diego sono tornati in studio e tra loro non c'è stato un chiarimento, ma solo un duro confronto. Sebbene lui si fosse dichiarato innamorato, non è riuscito a trattenere il suo pensiero. A detta sua, ciò che la Platano ha fatto la scorsa settimana avrebbe uno scopo ben preciso, ripulirsi l'immagine. Tina Cipollari, che ha sempre attaccato Ida, questa volta ha preso le sue difese. Sei un quacquaracqua, fai pena. Sei un bufone. Sei falso, finto. Hai fatto una figura di mea. L'opinionista, come altri presenti in studio, si è detta convinta del fatto che Diego non abbia mai avuto intenzione di uscire dalla trasmissione con Ida. Sei un farabutto, ha poi aggiunto, di fronte a queste fortissime accuse, il cavaliere è andato fuori di sé e ha chiesto all'opinionista di moderare i termini, senza ottenere il risultato sperato. Un gioco al massacro, durante il quale Ida e Diego si sono accusati a vicenda, in modo abbastanza forte. Secondo la dama, Tavani sarebbe molto bravo a parlare. Non solo, ha anche fatto sapere che il cavaliere era a conoscenza del fatto che avrebbe avuto un chiarimento con Tina dopo aver fatto un annuncio importante sulla loro storia. Mi dicevi direttamente non sono convinto. Ha dichiarato a gran voce la Platano. Diego non si è spostato dalla sua posizione e ha ammesso che rifarebbe ciò che ha fatto. Gianni Sperti ha preso, come sempre, le difese di Ida e non le ha mandate a dire, alzando anche lui il tono della voce. Ti trovo assurdo, vuoi far ricadere la colpa su di lei? Lei ha fatto molto di più delle tue parole. Grazie. 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 Grazie.